allora è giusto fare il reboot dell'esorcista film di william fredkin di cui abbiamo parlato veramente tantissimo finché uno tra i miei preferiti in assoluto del cinema horror del cinema in generale perché comunque un film drammatico non è solo un film horror film di cui ho diverse magliette c'è questa qua che è giusto fare il reboot o il remake orre qui ora la o il prequel o il sequel dell'esorcista certo che è giusto cazzo certo che è giusto è giusto è giusto se non avete ancora capito il cinema vive di remake nel senso che ne ha bisogno ne ha bisogno come noi abbiamo bisogno del sangue come il sangue vita il remake è vita per il cinema allora la prima cosa che vi voglio dire che se fanno un remake dell'esorcista è solo un bene per tutti quelli chiamano il cinema horror perché perché vuol dire che il cinema horror va di moda e sta continuando ad andare di moda e questa è una cosa abbastanza evidente negli ultimi anni quindi siate felici di questo sappiate però che non è solo questo il motivo per cui è giusto fare il remake che va bene e ci va bene ci deve andare bene perché vuol dire che appunto il nostro genere queste tematiche sono intrigano e interessano a chi mette i soldini ma dovete anche sapere che gran parte dei film che voi difendete a spada tratta sono essi stessi dei remake se amate per dire la saga di the ring sapete benissimo che è una saga che è il remake di una versione orientale del feed di questo film se amate la mosca di david cronenberg spero sappiate che è il remake del dell'esperimento del dottor k che è un bellissimo film e qui si potrebbe aprire una parentesi perché voi direte è ma l'esperimento del dottor k in effetti è un film molto vecchio e il film di cronenberg invece è degli anni 80 adesso non ricordo esattamente di quando è e quindi ci poteva stare uno svecchiamento della trama mentre invece l'esorcista è vecchio anche quello perché degli anni 70 e invece è molto interessante il fatto che uno possa andare a rifare l'esorcista visto che negli ultimi decenni il mondo cattolico è cambiato tantissimo io addirittura ho visto dei preti fare dei balletti su tik tok per farvi capire la chiesa dei profili social c'è ormai è un mondo sdoganato è quello della tecnologia del social dell'internet come lo vogliamo chiamare e la chiesa c'è dentro fino al collo quindi rifare l'esorcista in versione moderna potrebbe starci adesso io non so se questo reboot sarà ambientato negli anni 70 o sarà ambientato al giorno d'oggi ma è cambiata la percezione del della religione nelle persone quindi è molto interessante l'idea di fare un film magari dove la gente non crede più e ci può essere invece l'elemento diabolico che porta le persone invece a credere di nuovo insomma sono tantissime le sfumature che si possono mettere in un in un remake o reboot dell'esorcista questo non significa che se faranno questo film sarà per forza bello però potrebbe anche essere una grandissima merda detto ciò a me non frega nulla perché non è che se un film è brutto escono film brutti allora smettiamo di fare i film quindi se esce un remake brutto non significa che bisogna smettere di fare i remake sono veramente tantissime le ragioni che potrei stare qua a elencarvi sul fatto che è giusto fare i remake i remake sono la linfa perché sono permettono alle storie di continuare a vivere e di evolversi e poi in alcuni casi alcuni remake sono meglio dei precedenti altri altri remake sono inutili diciamo non hanno portato nessuna innovazione nessuna idea brillante vi faccio un esempio molto meno importante due esempi molto meno importanti che sono evil dead che è il remake prodotto da sam raimi della casa mi sembra di non vorrei dire una cazzata evil dead remake non mi viene mai il nome quindi vel me lo vado a leggere fede alvarez infatti avrei sbagliato avrei detto un altro nome di fede alvarez è un bellissimo film se non fosse mai esistito il film la casa la saga di evil dead probabilmente evil dead di fede alvarez sarebbe un cult invece semplicemente un film molto divertente ben girato simpatico e che cerca di non copiare troppo la casa lo stesso vale per chaki il reboot recentemente uscito con midnight factory che non è sicuramente bello come la casa il remake ma è comunque un buon film divertente che ha saputo modernizzare la storia in modo molto simpatico il film si lascia guardare anche abbastanza horror splatter ho apprezzato tantissimo certe morti tipo a quella della motosega come ci sia arrivati ho apprezzato le citazioni che ci sono nel film che sono tante sono ed è evidente che chi ha fatto questo film amasse il cinema horror ho apprezzato le sfumature di questo nuovo chaki quindi benvenga e quindi benvenga anche questo benedetto esorcista concludo con l'ultima motivazione quindi io sto veramente mettendo sul piatto tantissimi ragionamenti più che validi ok e l'ultimo è questo e prendo come esempio suspiria di luca guadagnino suspiria di luca guadagnino è un bellissimo film che oserei dire potrebbe veramente nell'arco del tempo diventare un cult perché è veramente un modo di fare cinema horror diverso particolare sofisticato ma anche molto di genere nel finale molto splatter eccetera è veramente di una grandissima eleganza ma non sarà bello esteticamente come poteva essere quello di suspiria di dario argento che veramente un capolavoro assoluto suspiria di luca guadagnino non sarà mai un capolavoro come come lo è stato quello come lo è quello di dario argento ma sicuramente negli anni acquisirà tantissimi stimatori probabilmente diventerà verrà considerato un cult al contempo mi viene da dire che non mi sembra che il film di luca guadagnino che sia un bel film che venga considerato un brutto film non mi sembra che abbia in nessuna maniera intaccato il film di dario argento non ha mai minimamente sfiorato scalfito suspiria di dario argento io vedo tanti commenti di persone che dicono non toccate quel capolavoro e io vi dico i film non hanno le mani quindi non possono toccare altri film fatemene una ragione quindi se io prendo un film e faccio il remake non sto mettendo le mani sul film originale ok toccare un film significa prendere il film originale bruciare tutte le copie che ci sono in giro rimontarlo rifarlo ridirigerlo cambiare delle robe e poi farlo uscire di nuovo quello è toccare un film quindi i film vengono toccati semmai dopo che sono stati girati vengono toccati dal produttore che vuole più scene di un certo tipo da quello che vuole il minutaggio più corto perché non è abbastanza commerciale quelli sono azioni che toccano il film fare un altro film non tocca minimamente non scalfisce minimamente il cult che abbiamo amato abbiamo apprezzato e possiamo continuare amare aggiungo che suspiria di luca guadagnino ha il grande merito di aver in qualche modo rispolverato il vecchio film di dare argento molte persone non lo conoscevano e grazie a luca guadagnino lo hanno visto e quindi io penso che anche guadagnino sia felice di questo perché lui è un grande stimatore di dare argento e quindi grande merito a luca guadagnino che ha fatto conoscere di nuovo a nuove generazioni il suspiria di dare argento che è veramente bellissimo io sono sempre 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 a favore dei remake se vengono male se vengono brutti se non sono minimamente belli come il loro predecessore chi se ne frega chi se ne frega quando difendete i capolavori in realtà state solo difendendo la vostra esistenza che sta piano piano andando al termine e quindi in un certo senso lo capisco la paura della morte la paura di scomparire insieme ai propri capisaldi culturali insomma è comprensibile detto ciò vi auguro una buona giornata e iscrivetevi al canale lasciate like sia che vi sia piaciuto il video sia che non vi sia piaciuto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti